Buonasera a tutti, consueta conferenza stampa di presentazione dell'andata di questi ottavi della E-Champions che vede il mio sito opposto alla Juventus a Torino, una partita non semplice. Il ritorno dei sedicesimi ha dato delle indicazioni importanti, ho dei giocatori rosa che hanno tirato la carretta fino ad oggi, sono un po' stanchi, quindi ci saranno dei cambi, ci saranno dei cambi di formazione, dei cambi tattici e cercherò chiaramente di mettere, avendo a disposizione una squadra molto tecnica, di mettere in campo i giocatori che sappiano tenere in mano il pallino del gioco per governare la gara fin dall'inizio. Non è una partita semplice, la Juventus è una di quelle squadre accreditate sin dall'inizio alla vittoria finale, non solo per il fatto che ha nella sua rosa il giocatore che ha inciso di più nella storia di questa moderna Champions League, ma anche per il fatto che ha una panchina molto lunga e di qualità, quindi sarà veramente una grande partita, c'è grande entusiasmo e curiosità per vedere come si incomporterà il mio sito, per vedere le risposte che mi verranno date da quei giocatori che magari in questo ultimo periodo hanno giocato un po' meno, però che verranno chiamati a fare una grande cara domani. In bocca al lupo, ci vediamo domani!